Ecco, questo è Monsignor Simoni, manca l'emerito dell'esoto perché è rimasto in patria perché è malato, la berretta gli verrà consegnata. Adesso questa invece è una figura molto significativa, un semplice prete albanese, pensate, non è un vescovo, non è un accademico, è un prete, Don Simoni, che ha tanto sofferto sotto le persecuzioni anticristiane in Albania, il Papa l'ha conosciuto di persona durante la sua visita a Tirana e ora lo fa diventare il cardinale di Santa Romana Chiesa, è stato 30 anni in carcere Don Simoni. Sì, è quando ha raccontato davanti al Papa la sua storia, il Papa lo ha abbracciato e abbiamo visto che la commozione è arrivata fino alle lacrime, gli occhi di Papa Francesco si sono inumiditi. Sì, questa è una nomina molto molto bella, commovente, significativa, pensate che cosa ha passato quest'uomo che diceva messa in latino in segreto. Sì, grazie. Sì, grazie. Grazie a tutti.